come va e bentornati sul mio canale di cosa parliamo oggi di bonus e detrazioni nel 2022 il prossimo anno quindi oggi vediamo quali bonus rimangono e quali bonus il nostro governo ha mandato a casa quindi ha cancellato per la gioia di molte persone prima di continuare nel video vorrei ricordare a tutti coloro che mi stanno guardando in questo momento e che non sono ancora iscritti al mio canale di youtube di iscriversi qui sotto e di attivare anche la campanellina costa veramente poco però potete aiutare il mio canale a crescere e a diventare sempre più conosciuto grazie nel 2022 ci saranno moltissimi e dico moltissimi cambiamenti per quanto riguarda i bonus che vanno e vengono cioè chi entra chi esce chi esce chi entra ma non solo perché ci sarà un cambio anche per quanto riguarda le detrazioni fiscali che ci danno la possibilità di risparmiare dei soldi molti soldi sulle tasse da pagare ad oggi ci sono circa 80 più o meno è più o meno tra pro bonus e detrazioni che girano un po in tutti i settori come per esempio l'edilizia la sanità gli affitti la famiglia e il televisore la cultura e infine i trasporti questo è solo un piccolo esempio la maggior parte di questi contributi che vi ho appena detto sono usati pochissimo quindi secondo il nostro governo si possono tranquillamente eliminare così oggi vediamo brevemente i bonus che vanno via e quelli che arrivano partiamo subito con i bonus e le detrazioni che praticamente spariscono a dicembre 2021 spariscono questi bonus e adesso vi faccio un elenco bonus affitto bonus seggiolino auto anche anche questo qua era molto interessante e carino bonus babysitter bonus anziani bonus biciclette e monopattini bonus matrimoni sempre che sia mai esistito in realtà bonus sanificazione poi bonus vacanze bonus per la chiusura del covid per le aziende e i buoni spesa tranne ovviamente i comuni che sono ancora in ritardo con i pagamenti ora vediamo i bonus e le detrazioni che restano nel 2022 e quelle nuove insomma le ultime novità intanto nel 2022 restano confermati i bonus casa poi rimane il super bonus 110 per cento che è prorogato fino al 2023 per condomini e case e acp ma non solo per questi infatti vale anche per le villette e tutte le altre strutture abitative private che ci sarà tempo per usufruire del bonus solo fino al 31 dicembre 2022 con un tetto isee di 25 mila euro è uscito di nuovo alla ribalta il bonus facciate del 90 per cento che nel 2022 sarà solo al 60 per cento e rimane confermato anche il bonus ristrutturazione del 50 per cento per una spesa massima di 96 mila euro per unità abitativa attenzione è diversa la storia unità abitativa poi sempre per quanto riguarda la casa gli altri bonus possono essere questi bonus mobili bonus condizionatori bonus idrico bonus luce e gas che ho già fatto un altro video dove ho parlato ampiamente di questo bonus luce gas bonus verde bonus acqua potabile bonus prima casa per i giovani sotto i 36 anni d'età abbiamo anche il bonus per l'acquisto di auto a basse emissioni di veicoli elettrici o ibridi a uso personale o commerciale e anche il bonus colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli un altro bonus molto interessante è il bonus televisione perché rimane il punto il bonus tv e decoder con uno sconto del 20 per cento sull'acquisto di televisori fino a un massimo di 100 euro senza isee e di 30 euro per i decoder che però in questo caso per i nuclei familiari con isee fino a 20.000 euro entrambi i bonus sono accumulabili assegno unico e di questo assegno unico ho già fatto un bellissimo video che trovate sempre qui sul mio canale di youtube dove vi spiego esattamente in dettaglio tutti gli importi che si possono prendere dallo stato quindi tornando a noi ci sarà l'assegno unico ma saranno ovviamente cancellate tutte le altre vecchie detrazioni come per esempio il bonus bebè bonus mamma domani bonus genitori separati divorziati eccetera 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 però io a questo punto per quanto riguarda l'assegno unico vi consiglio di guardare questo mio video che ho fatto sul mio canale lo potete trovare tranquillamente su youtube cercando assegno unico 2022 luigi me la carne e vi esce fuori questo bellissimo video poi c'è un bonus un po particolare che si chiama bonus occupazione ci sono nuovi incentivi per l'occupazione come per esempio l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione o le agevolazioni per l'assunzione di donne di under 36 e di over 50 bonus post e bancomat questo è un campo un po particolare rimane quindi anche il bonus post fino al 30 giugno 2022 dedicato a esercenti e quindi tutti titolari di partita iva che praticamente è un credito di imposta fino al 100 per cento anziché fino al 30 per cento di tutte le commissioni pagate alla banca per l'utilizzo del post reddito di cittadinanza e il resto al sud confermati quindi il bonus di contribuzione sud è il tanto discusso reddito di cittadinanza che però avrà dei vincoli un pochino più rigidi e anche di questo ne ho già parlato sempre qui su youtube trovate il mio video appunto sul mio canale per ultimo vediamo il bonus occhiali visto che comunque io ne faccio parte della categoria e ahimè si prevede si prevede anzi non si vede ve lo dico io che non si vede che nel 2022 ci sia di nuovo non di nuovo ci sia il bonus occhiali che praticamente è rimasto dimenticato cioè possiamo anche non vederci tanto allo stato non ci interessa ecco ci interessa noi che dobbiamo vedere e che dovrebbe essere 50 euro per l'acquisto di lenti a contatto e occhiali da vista bene con il bonus occhiali il video finisce qui ti ringrazio per avermi guardato e se hai delle altre richieste di video e vuoi che ti parlo di qualcosa in particolare fammelo sapere qui sotto nei commenti così mi posso organizzare e ti posso preparare un video proprio dedicato a te qui sul mio canale di youtube e come sempre ricordati di iscriverti anche qui sotto al mio canale di attivare la campanellina così non perderai nessuna prossima novità ti aspetto qui su youtube ciao novità ti aspetto a te qui suoi